nell'andare e venire dalla base neozelandese secondo appunto gli orari previsti. Non vediamo la grafica ma ve lo dico io, numero 7 non c'è Murphy Taramai che sarebbe stato... Si può cominciare, l'arbitro ripeto è il neozelandese Paul Williams, il drop, la palla che... L'apertura d'Angelo Leulila, come sappiamo sono tutti, quasi tutti professionisti. Fisicamente a questo confronto resistere, placcare, cominciare bene, la palla recuperata da Menoncello. Amaro e Vincent in terza linea, Amaro la trentesima da capitano, Varney è il mediano di mischia, con Paone fa un po' la differenza, poi arriva l'ottimo placaggio da parte del nostro capitano, ancora la carica, Pala e Leiuwa, i due centri, Taumatein è il mediano di mischia. Dritto per dritto. Anche un mio ex compagno di squadra. Attenzione, esce e va a segno proprio l'uomo. Comunque cominciamo, insomma, è un po' con... Lanzamento ha fatto bene, poi Brex per Menoncello, pallone che caschi in avanti. No, ma questi sono trasferti dure. Intanto si calcia, Garbisi. Ha preso il palo? No, su, su, per fortuna. Questa concentrazione proprio a livello mentale. Non è recuperato da Ross Vincione, che criticano e non sanno veramente poi le storie vere per i quali i giocatori. Ma perché non viene... Seulila. Con Johanna a cento all'ora, eh? Bene, bene, bene. Il figlio di Michael! L'assistenza di Digby, Johani. Gambe per Digby, Johani. Chiama la palla a Luis Leinag. Fretta di aver tutto subito? No, niente. Paolo Garbisi. Hop lungo. E qui, questo è un fallo su Johani. Eser agbisticamente. Bravo per l'Ax. Parlando a Ruzza. Perso il pallone. Perso il pallone in avanti. Nel Queensland, quasi 50 partite con i Reds. Rubata! Peccata avanti. E non controllata. Però Ruzza tutto buono. Si stacca Lucchesi, no molla. Riesce a prenderlo. È una giocata a angolo. Bella questa. Vediamo se arriva. E' bella. Si fiducioso. Comunque sicuramente qua c'è stato il calcio dell'Italia diretto fuori. Jus dice, quindi giocala. Via, Tao Matei. Forza. Arriva Iseco. La tengono dentro. Lucchesi fuori. Lucchesi per la carica di Menoncello. Sì, di Samoa. Qui Garbisi non perde neanche troppo tempo. Pali, 12 a 18. E si migliora qua, perché con calma ci arriviamo. Però almeno ascoltare lo speaker, l'ha detto Dicciolo. Izeco, poi parata di Varney. Ancora meno un cello. Pallone. Dare guai. Placcaggio di Leinag. È tutto buono. Sì. Poi... Guarda che cazzo. Sì, è duro questo qua. Sta dicendo, buttala fuori. Buttala fuori. Pallone. Finisce il primo tempo. Diciamo, sui binari corretti di un rugby più disciplinato. Sebbene...